Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo inventario parliamo dello stativo della KF Concept, il KF 34009. Questo stativo a prima vista sembra un cavalletto da macchine fotografiche, che infatti ha un design innovativo che utilizza il sistema di chiusura e di gambe di un cavalletto fotografico, però in realtà una volta che lo apriamo possiamo vedere che è uno stativo per attrezzatura fotografica o attrezzatura per video, con nella parte superiore un'avvitatura da un quarto di pollice, quella standard per la fotografia, e uno spigot che è l'adattatore standard per attrezzatura da studio. Infatti se utilizziamo per esempio un adattatore per ombrelli fotografici con un flash sopra, in questo caso è il flash QQ20, possiamo avvitarlo in questa maniera e abbiamo uno stativo che è molto compatto, infatti da chiuso ha una dimensione di 50 cm e un peso minore di 1 kg. E vediamo che il sistema delle gambe ci permette di mettere le gambe in tre posizioni diverse, e possiamo per esempio aprirlo nella posizione più ampia e abbiamo un'altezza minima di circa 50 cm, mentre se chiudiamo le gambe abbiamo un'altezza massima di 2,10 m. Lo stativo chiaramente essendo ad asse centrale, quindi non avendo dei sostegni nella parte più in alto, quando lo mettiamo nella posizione con le gambe più alte, comincia ad essere leggermente instabile, soprattutto se montiamo dell'attrezzatura molto pesante nella parte superiore. E questo stativo ha una portata massima di 4 kg, quindi possiamo utilizzare anche attrezzatura piuttosto pesante. Chiaramente quando utilizziamo un'attrezzatura pesante conviene attaccare nel gancio che troviamo qui sotto, dei pesi come per esempio un sacchetto di sabbia. Il prezzo di questo stativo si aggira sui 45€, ma controllate nella descrizione di questo video di YouTube oppure sull'articolo che trovate su player2.com, ma perché il produttore offre uno sconto a tempo limitato del 5% su Amazon o del 10% direttamente sul sito del produttore. Due cose che mi sono piaciute subito di questo stativo sono il sistema di apertura e chiusura rapido ispirato a un cavalletto e questi gommini arrotondati sulle gambe, perché questi gommini ci permettono, se vogliamo, di mettere le gambe a delle altezze diverse e per esempio avere lo stativo inclinato, quindi possiamo inclinarlo in questa maniera oppure volendo possiamo tenere due gambe nella posizione più alta e una gamba nella posizione diciamo più aperta e in questa maniera abbiamo lo stativo inclinato e questo è molto comodo e spesso mi sono trovato ad alzare magari con dei libri la gamba di uno stativo per inclinarlo quel tanto necessario a riuscire magari a raggiungere con un flash o con un microfono esattamente il punto che cercavo. Un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che lo spigotto nella parte in alto ha l'avvitatura comunque da macchina fotografica perché questo ci permette per esempio se vogliamo di mettere un adattatore come questo qui che ci permette magari di agganciare un telefono in questo caso oppure un adattatore più grande per attaccare un tablet e questo può essere comodo per utilizzare lo stativo magari per un monitor esterno e volendo in caso di necessità se proprio magari non abbiamo qualche altro supporto possiamo anche montare una testa a sfera in questo caso è un po' grande ma possiamo metterne anche una un po' più piccola e praticamente trasformare questo stativo in un cavalletto per macchine fotografiche o videocamere e questa è una cosa che di solito faccio spesso di utilizzare in caso di emergenza uno stativo come cavalletto per la macchina fotografica secondaria. In generale per il prezzo di circa 45€ è una buona soluzione perché è leggera, è pratica da utilizzare e non ingombra molto che sapete che per me è una caratteristica molto importante quindi se siete interessati a questo genere di prodotti mi raccomando come ho detto controllate se il coupon è ancora attivo perché potete prendere un leggero sconto. Come sempre per dubbi o suggerimenti potete iscrivermi su carlochiocciolaplayer2.com potete seguire player2lighting su twitter e instagram a chiocciolaplayer2 oppure su facebook a facebook.com slash p2lighting e mi raccomando visitate il sito di player2lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com slash forum dove potete confrontarvi con tanti altri fotografi e partecipare ai concorsi di player2lighting che organizziamo molto spesso. Grazie e ci vediamo al prossimo inventario!